Siamo a Marte, in questa giornata le attività non mancano. Nel promoste e nell'altro sto vedendo, possiamo dire, un archivio. Lei è il tavolino? Sì, io sono il tavolino. Lei è il tavolino. Ho scritto tanti libri, eh? Ma, classico, divertimento. Allora, su quanti canali ti mettiamo? Che è sta maschera? Ma perché non è che nessuno parla di scie chimiche, a parte di sciroccati? Com'è che qua tutti parlo di signoraggio e adesso parlo di scie chimiche? Sono tutti dei bunker. Grazie.